Bad Weather è un film che racconta di un'isola a bordello in Bangladesh. Ho voluto realizzare questo ritratto collettivo della comunità di donne, di lavoratrici sessuali che sull'isola vive e lavora. Per farlo ho deciso di raccontare questa comunità attraverso degli argomenti di carattere universale, quale l'amore, i diritti sociali e l'infanzia negata. Per raccontare dell'amore ho raccontato la storia di Khadija e di suo marito che li porta durante il giorno i clienti. Per raccontare dei diritti sociali la storia di Razia che è la leader politica dell'isola e che tiene contatti con il network che richiede i propri diritti al governo bengalese, che quindi la prostituzione sia riconosciuta come un lavoro. E per raccontare dell'infanzia negata ho raccontato la storia di Shefali, che è di sua figlia a Shabano, una bambina di otto anni che vive sull'isola insieme a sua madre. Tutti questi ritratti sono tenuti insieme dalla storia di Ismael che è il pazzo dell'isola, che in qualche modo ricorda alla comunità il passato dell'isola perché l'isola è stata minacciata e colpita da cicloni e inondazioni e il futuro dell'isola perché l'isola probabilmente sarà destinata a scomparire. Grazie. Grazie. Grazie.